Lei, secondo me, mi sta prendendo in giro. No, no, ci sicuri. Faccio la prossima domanda, signor Lidia. Mi dica. Qual è stato il suo percorso formativo, cioè quale scuole ha fatto per diventare… La terza media ho fatto io. Sì, sì, ma il percorso da attore. Ah, ho fatto il corso, ho fatto il corso, sono stato accettato e niente. Quale corso, signor Lidia? Quale corso? Dove ha studiato recitazione? A Roma sono stato. Quindi ha studiato recitazione a Roma? Sì. Mi sembra un po' una cazzata, vabbè, però. No, no, non è una cazzata, è vero. È vero, non è una cazzata. C'era una cazzata e vi dicevo una buccia. Quindi hai studiato a Roma? Ho studiato a Roma, ho fatto due anni di studio e poi me ne sono messo a casa. Lei ha voglia di prendermi in giro, signor Lidia, ho capito. No, 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 non la prendo in giro. Se hai una voglia di rispondere seriamente stacchiamo qua, non c'è problema. No, 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 seriamente, sto rispondendo seriamente. Ah, quindi lei studia da Roma? Sì, sì. Ma se ne va a quel paese.